Ciao a tutti ragazzi, oggi recensione, ma neanche tanto recensione oggi parliamo di un liquido, come si è visto dal titolo Naked All Melon, 70-30, 60 ml, di pura bontà, secondo me abbiamo Anguria, Melone Classico Arancio, Melone Rettato, e Melone Bianco allora, questo liquido qui, insieme all'altro Naked provato precedentemente, il Green Blast sono una cosa che io non so perché non li ho provati prima non so perché non li ho provati prima, sono uno più buono dell'altro allora, non faccio un confronto tra il Green Blast e l'All Melon perché sono comunque differenti, il Melone c'è in entrambi, ma è un Melone diverso io oggi me lo svaperò su RX200 l'automizzatore è il Druga RDA di Augvape ho fatto su una 7 spire di Nembo 22 gauge su punta da 3 in dual coil siamo a 115-116 watt e... che dire e... che dire micidiale come dice un altro youtuber è micidiale è buonissimo allora, questo liquido, come si nota, ne manca già un po', lo avevo svappato su altri sistemi oggi ho rigenerato questo per la prima volta nonostante sia rigenerato appunto a filo singolo l'aroma è pazzesco il profumo del Melone ammetto che l'anguria si sente meno l'anguria mi pare che ha rotondi un pochettino il gusto ma il dolce del... del... del melone classico irritato con la delicatezza del melone bianco hanno creato un liquido secondo me da tutto il giorno io sono andato avanti due o tre giorni a sbapparlo tranquillo e mi è piaciuto ora su questo sistema ho paura che la boccia finirà molto presto perché... perché è ottimo non ho... non ho molto da dire cioè... quando un liquido è buono è buono questa frase l'ho già usata per altri prodotti però... è la verità non posso utilizzare terminologie differenti quando il concetto è quello e... cioè è fantastico un 70-30 un 70-30 tre gusti viene fuori un mix buonissimo sono curioso di provarlo prossimamente se lo troverò a zero di nicotina perché comunque è vero che la nicotina anch'essa rotonda e rende il tutto più più gustoso più buono però credo che questo sia uno di quei liquidi uno di quei pochi liquidi che anche a zero di nicotina non perdono assolutamente niente perché è equilibratissimo gli ingredienti si riescono a distinguere i due tipi di melone nella sbappata si sentono differentemente a seconda se si esala dalla bocca o dal naso e mi sta piacendo veramente molto non ho altro da dire questo video dura poco così proprio perché quando quando si trova quando ci si affaccia verso un prodotto di questo tipo non ci sono tante parole per descriverlo non posso cercare mille sfaccettature differenti gli aromi sono quelli e si sentono da subito si sentono da subito e si sentono per tutto l'utilizzo quindi ho iniziato a svapparlo al mattino fino alla sera e continuavo a sentirli nel modo corretto ragazzi qualsiasi domanda e curiosità me la fate nei commenti io rispondo a tutti come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace condividetelo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti